In seguito all'impennata dei nuovi positivi al Covid-19 nel comune di Montesilvano, il sindaco Ottavio De Martinis ha lavoro per organizzare un nuovo screening di massa. Samani, il primo cittadino collegato in videoconferenza con i vertici della ASL, ha disposto tutte le iniziative necessarie per organizzare dalla prossima settimana un nuovo test rapido di massa per contenere i contagi. Signor sindaco, impennata di contagi in città, si pensa ad un nuovo screening? Sì, assolutamente, questa mattina a brevissimo avrò una videoconferenza con il direttore Vincenzo Ciamponi e con la direttrice del distretto di Montesilvano al fine di organizzare al meglio le operazioni così come è accaduto qualche settimana fa. Già all'epoca i test sono risultati uno strumento utilissimo, riteniamo alla luce dei numeri che stanno aumentando, riteniamo di dover effettuare un secondo screening di massa a titolo preventivo. All'inizio di gennaio oltre 500 positivi in città, questo dato allarma, preoccupa, però bisogna correre ripari. Allora, in realtà siamo in linea con i dati dei territori limitrofi, è evidente che se c'è un'impennata sul territorio tutti i comuni ne sono investiti. Montesilvano è la società di Abruzzo e con 54 mila abitanti, insomma rappresenta una fetta di popolazioni molto importante e quindi i numeri sono proporzionati assolutamente a questo. Io da settimane ormai sto invitando tutti al rispetto delle prescrizioni perché questa è l'unica arma che abbiamo al momento, in attesa dei vaccini che speriamo possano arrivare a darci una mano quanto prima. Fino ad allora dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili e soprattutto dobbiamo utilizzare senso responsabilità e comportamenti idoni.